La bellezza ci salverà, sostiene il poeta. Noi in quattro anni abbiamo cercato di lasciare un segno del nostro passaggio. A chi ama e a chi ha amato, quanti gesti inutili, superflui, perché dovrei essere con te altrimenti. Io vorrei che guardando i nostri oggetti pensaste di fare un dono che nel gesto si dilati nel te. Noi in quattro anni.